Frenata nella trattativa per il closing che dovrebbe permettere a Gio Taccopina di acquisire il Catania. Dopo gli annunci e i proclami dei mesi scorsi, i ritardi della Sigi hanno impedito al tycoon americano di rispettare le scadenze. Così lui, per fare chiarezza, ha rilasciato una lunga nota stampa in cui spiega come stanno le cose. Aveva scelto il silenzio per permettere a Sigi di lavorare senza pressione, ma adesso Taccopina ricorda i passaggi della vicenda. Il contratto preliminare firmato nel gennaio 2021, la chiusura dell'accordo prevista per il 26 febbraio, è slittata al 26 aprile, perché l'attuale proprietà non possedeva i molti documenti richiesti, incluse le fondamentali certificazioni attestanti la riduzione del debito. Infine, il ricordo dell'impegno al fianco di Sigi per garantire il pagamento degli stipendi e il rispetto di altre scadenze, inviando 800 mila dollari. Adesso lo stop, perché dieci giorni prima della chiusura del 26 aprile, in questo genere di negoziazione, chiarisce Taccopina, era assolutamente necessario ricevere tutti i documenti a riprova che le 12 condizioni del contratto fossero state raggiunte. Solo email informali e nulla di più, tutto rinviato a fine campionato, quando si saprà anche se il Catania di Francesco Baldini, allenatore scelto da Taccopina, giocherà in Serie C o in Serie B. Grazie a tutti.